cari uncinetine in questo tutorial vi voglio far vedere come lavorare questo braccialetto uno come vedete l'ho già messo anche un... ho fatto la chiusura così, semplice mi sembra molto elegante ho messo un bottoncino e sinceramente voglio provare anche a inamidarla così in tondo e questa invece l'ho solo finita e adesso ci devo pensare ho qua un bottoncino che starebbe proprio bene, non lo so, insomma ci devo pensare e questo è il modello, molto semplice ma molto elegante si possono fare anche delle colanine, quindi parure come volete voi e anche tipo anelino starebbe molto molto bene secondo me, guardate che stupendo ok, quindi mettiamoci all'opera e quindi dicevo starebbe bene anche come un... un anello ok, adesso mettiamoci all'opera queste le ho lavorate con cotonne cable numero 5 e con uncinetto da 2,5 invece questo qua lo vuole lavorare... no, questo non lo devo... questo è anche... poverino, vedete? l'ho comprato così perché mi piaceva il colore e c'era solo così ma insomma... se io trovassi... l'ho trovato quindi cotonne cable numero 5 e proviamo con uncinetto numero 2 così ci viene un po' più stretto quindi facciamo il nodino iniziale e avviciniamo un po' l'immagine perché si veda qualcosa bene, queste essendo fatte abbiamo qua il nostro modellino ecco, come facciamo? 4 catenelle quindi una... fatela un po' più larghina l'ultima la prima, scusate quindi una... due... tre... e quattro 4 catenelle filo sull'uncinetto entriamo nella prima, per questo dicevo, nella prima catenella e lavoriamo così un punto alto che... ups, che non lo chiudiamo lo lasciamo così filo sull'uncinetto entriamo sempre in questa e lavoriamo un altro punto alto e non lo chiudiamo ancora un punto alto e non lo chiudiamo quindi tre punti alti che non li chiudiamo ma li chiudiamo insieme filo sull'uncinetto passiamo tramite tutti quindi noi adesso abbiamo tre catenelle e tre punti alti chiusi insieme no? le tre catenelle iniziali adesso facciamo tre catenelle con contatto con la catenella di chiusura questa qua che la sto facendo adesso quindi una due tre catenelle poi torno sempre nella mia prima catenella e faccio un puntino basso così adesso faccio una catenella e giro il lavoro e inizio a lavorare nelle mie tre catenelle qua dove ho fatto il puntino basso queste catenelle tre catenelle quindi lavoro tre punti bassi uno due tre tre punti bassi un picco formato da tre catenelle quindi tre catenelle e vengo e prendo queste due queste due parti del mio punto basso per chiudere il picco chiudiamo il picco e andiamo uno e due e ne facciamo ancora tre punti bassi due e tre tutto nello stesso spazio da tre catenelle adesso facciamo tre catenelle di nuovo due tre filo sull'uncinetto nello spazio da tre catenelle dalla parte opposta dei nostri tre punti alti quindi questo qua entriamo con l'uncinetto e lavoriamo di nuovo una nocciolina formata da tre punti alti uno due ed è qua ops ero ecco perfetto uno due e tre ok quindi tre punti alti li chiudiamo tutti insieme e iniziamo a contare tre catenelle con questa di chiusura ok con questa di chiusura quindi una due tre catenelle vengo sempre nello stesso spazio da tre catenelle dove ho lavorato la mia nocciolina seconda e faccio un punto basso ok una catenella e di nuovo giro il lavoro e nelle mie tre catenelle lavoro ciò che ho lavorato qua quindi tre punti bassi uno due tre punti bassi tre catenelle per il picco veniamo a chiudere il picco nell'ultimo punto basso prendendo due parti del punto chiudiamo il picco con un punto bassissimo e ne facciamo sempre e ne facciamo sempre qua altri tre punti bassi due e tre bene ok quindi abbiamo già iniziato come vedete il nostro modellino poi poi tre catenelle e da qua ripetiamo partiamo entriamo nelle tre catenelle dalla parte opposta della nocciolina queste tre filo sull'uncinetto entriamo qua intorno alle tre catenelle facciamo la nostra terza nocciolina quindi altri tre punti alti lavorati insieme tre punti alti filo sull'uncinetto passiamo tramite tutto e con la prima catenella questa di sicurezza numero quattro conto tre scusate uno due tre catenelle torno nello stesso spazio e da tre catenelle e faccio un punto basso poi una catenella e di nuovo giro il lavoro e inizio nello spazio da tre catenelle appena creato a lavorare tre punti bassi tre catenelle che le chiudiamo nell'ultimo punto basso con un punto bassissimo per creare il picco e altri tre punti bassi nello stesso uno due tre altri tre punti bassi nello stesso archetto da tre catenelle e partiamo e partiamo di nuovo vedete ecco cosa abbiamo fino qua partiamo con la stessa cosa tre catenelle quindi abbiamo finito l'archetto facciamo tre catenelle torniamo nell'archetto nella parte sinistra e facciamo un'altra nocciolina una uno due tre punti alti che li chiudiamo insieme abbiamo i tre punti alti più l'anello sull'uncinetto questo dalle tre catenelle filo sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme e poi contiamo una due tre catenelle torniamo nello stesso spazio da tre catenelle dove abbiamo lavorato la nocciolina e facciamo un punto basso una catenella e giriamo il nostro lavoro e ci mettiamo a lavorare nell'archetto tre punti bassi un picco e altri tre punti bassi tre punti bassi un picco quindi tre catenelle che la chiudiamo nel nostro ultimo punto basso ecco e poi altri tre punti bassi due tre e voilà vedete sì sicuramente viene meglio lavorato con un uncinetto da due non lo so cosa dite a me sembra mi sembra meglio un po' ok andiamo avanti ugualmente tre catenelle quindi iniziamo un nuovo modulo tre catenelle filo sull'uncinetto filo sull'uncinetto entriamo nello spazio da tre catenelle alla parte sinistra intorno a esso facciamo la nostra nocciolina uno un punto alto non finito due tre punti alti non finiti filo sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme filo sull'uncinetto cominciamo la prima catenella la catenella di chiusura una poi due poi tre entriamo di nuovo nello stesso spazio da tre catenelle dove abbiamo lavorato la nocciolina e lavoriamo un punto basso eccolo qua facciamo una catenella e siamo pronti a girare per lavorare nel nostro spazio da tre catenelle appena creato tre punti bassi un picco e altri tre punti bassi quindi vedete mi giro piano piano così vedete entro nello spazio da tre catenelle appena lavorato e faccio uno due e tre punti bassi eccoli qua poi tre catenelle che vengo a chiuderle in un picco prendendo due parti del mio ultimo punto basso e con un punto bassissimo e ancora uno due tre punti bassi finito il mio archetto inizio il nuovo modulo quindi si va avanti così si ripete proprio questo modulo ecco ok andiamo di nuovo facciamo un altro modulo insieme così lo capite per bene quindi tre catenelle filo sull'uncinetto entriamo nella parte sinistra del nostro punto nelle tre catenelle scusate nello spazio da tre catenelle vedete abbiamo la nocciolina qua abbiamo il nostro archetto appena lavorato e qua c'è rimasto un altro archetto da tre catenelle in esso entriamo e facciamo la nostra nocciolina una due tre chiudiamo tutto passiamo tramite tutto e iniziamo con una catenella due catenelle tre catenelle entriamo di nuovo intorno allo stesso spazio da tre catenelle facciamo un punto basso una catenella e adesso ci giriamo per lavorare il nostro archetto giriamo e siamo pronti a lavorare intorno allo spazio da tre catenelle tre punti bassi tre catenelle che le chiudiamo nell'ultimo punto basso prendendo due parti del punto due asole del punto chiudiamo con un punto bassissimo il picot e facciamo altri tre punti bassi e da qua si va avanti così ripetendo lo stesso modulo fino alla lunghezza desiderata certo se vogliamo fare una parure una colana se vogliamo fare un braccialetto insomma dipende per alla fine per fare questa chiusura questo anello semplicemente facciamo un giro di catenelle non lo so io qua ne ho fatte dieci dipende quanto poi avete grande il bottone ho fatto dieci catenelle le ho chiuse nello stesso punto poi dopo ho lavorato sette punti bassi un picot e altri sette e qua ho finito quindi molto semplice ok io finisco questo e dopo vi faccio vedere comunque anche come si si lavora l'anelino e voglio fare vedere un'altra cosa una sorpresa lo finisco e torno quindi ci sono arrivata alla lunghezza desiderata con il mio braccialetto adesso finisco qua l'ultimo archetto con tre punti bassi tre catenelle per il picco chiudiamo chiudiamo il picco nell'ultimo punto basso prendendo due asole del punto e facciamo ancora due tre punti bassi e adesso vogliamo finire come finiamo entriamo nel prossimo nella parte dove facciamo di solito il punto nocciolina quindi entriamo qua e facciamo un punto bassissimo e così la chiudiamo semplice ok adesso per fare questa asola vi faccio vedere facciamo una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci catenelle anche dodici essendo lavorato più stretto e torniamo indietro qua dove siamo partite e facciamo un punto bassissimo per aggangiare ecco poi una catenella giriamo e iniziamo a lavorare intorno a questi dodici catenelle il nostro archetto o anellino da dodici catenelle iniziamo a lavorare abbiamo dodici otto punti bassi due tre quattro cinque sei sette otto punti bassi un picot per rimanere nello stesso tema del picot chiudiamo il picot e ne facciamo altri otto punti bassi per tornare indietro quindi uno due tre quattro cinque sei sette e otto ok entriamo di nuovo da dove siamo partite qua e facciamo un punto bassissimo per chiudere e ancora una catenella e finalmente siamo pronte a tagliare il filo tiriamo forte e voilà dove sei qua voilà il mio braccialetto è pronto quindi quindi ho anche l'asola per mettere il mio bottone ecco io ho trovato un bel bottone adesso quando iniziate non fate come me lasciate un filo più lungo così potete cucire il vostro bottone facilmente ecco il mio braccialetto sarà così ciò che vi volevo far vedere ci sono riuscite anche a cucire il mio bottoncino anche con quel pochino di filato che l'avevo comunque voi quando iniziate lasciate ecco una codina iniziale un pochettino più grande perché così riuscite a fare anche il vostro bottoncino a cucire il vostro bottoncino ok quindi questi sono i miei due braccialetti finiti e invece adesso dicevo vi voglio fare vedere una cosa perché questo qua lo possiamo utilizzare anche in un altro modo oltre a fare dei braccialetti possiamo lavorarli anche in strisce proprio verticali per creare non lo so delle borse dei sacchetti e così via e li possiamo unire tra di loro nei picco vi faccio vedere come adesso lavora con un uncinetto da 2,5 visto che questo l'ho lavorato con un uncinetto da 2,5 iniziamo il nostro braccialetto 3,4 catenelle filo sull'uncinetto e nella prima catenella facciamo la prima nocciolina quindi lavoriamo 3 punti alti che non li vogliamo chiudere ok li chiudiamo tutti insieme 3 catenelle così 3 catenelle che andiamo a chiuderle nella stessa prima catenella con un punto basso ok adesso siamo pronte facciamo una catenella e giriamo adesso è qua che vogliamo unire il nostro primo scusate che vogliamo unire il nostro primo picco quindi facciamo 1 2 3 e dicevo nel picco facciamo l'unione quindi facciamo solo una catenella entriamo nel nostro primo picco qua infiliamo l'uncinetto prendiamo il filo da sotto così facciamo un punto bassissimo e ancora una catenella ok adesso torniamo siamo pronte a chiudere il nostro picco con un punto bassissimo e a lavorare altri 3 punti bassi 1 2 3 e continuiamo 3 catenelle filo sull'uncinetto facciamo la seconda nocciolina dico nella parte sinistra nel archetto da 3 catenelle intorno alla nostra prima nocciolina nella parte sinistra 1 1 punto 2 e 3 ecco qua la mia nocciolina chiudiamo e facciamo 3 catenelle 2 3 e torniamo qua e facciamo un punto basso e una catenella poi dobbiamo girare adesso questo verrà qua quindi non lo dobbiamo attaccare lo lavoriamo normalmente ok quindi 1 2 3 facciamo il picco normalmente e non lo attacchiamo come vi dicevo è dalla parte opposta e non lo attacchiamo ecco 1 2 3 e invece adesso il prossimo piccolo attacchiamo 3 catenelle nella nell'archetto da 3 catenelle nella parte sinistra facciamo 2 3 la nostra nocciolina 1 2 3 catenelle 1 punto basso 1 catenella e giriamo per lavorare qua e qua come vedete dobbiamo fare la nostra unione quindi entro nell'archetto lavoro 1 2 3 catenelle una catenella per il picco entro nel prossimo picco della mia striscia finita prendo il filo lo tiro tramite questo picco faccio un punto bassissimo per la chiusura e ancora una catenella ok sono pronta adesso a tornare nel mio punto basso per fare il punto bassissimo di chiusura del picco e vado avanti 1 2 3 quindi vedete non vedete niente ecco e così le possiamo anche faccio di nuovo 3 catenelle e la parte opposta non la dicevo la parte opposta non la uniscono quindi 1 2 3 punti alti per la nocciolina chiudiamo 1 2 3 catenelle torniamo nel nostro archetto e facciamo un punto basso una catenella giriamo il lavoro e lavoriamo una vedete praticamente siamo dalla parte opposta un punto basso 2 3 punti bassi 3 catenelle per il picco torniamo nel terzo punto basso dove facciamo un punto bassissimo per la chiusura del picco e continuiamo con altri 3 punti bassi 2 3 poi 3 catenelle e di nuovo la nostra nocciolina 1 2 3 chiudiamo e facciamo 3 catenelle torniamo sempre nello stesso archetto e facciamo il nostro punto basso una catenella adesso ci giriamo ed eccoci qua siamo pronti a fare anche la nostra terza unione quindi certo che su un lato facciamo l'unione su un lato non facciamo l'unione ma questo è logico 3 punti bassi una catenella entro nel prossimo picco del mio della mia striscia lavorata finita faccio il punto bassissimo per l'unione e ancora una catenella torno e chiudo il picco con un punto bassissimo e vado avanti con ancora 3 punti bassi per finire il mio archetto e vado avanti così ecco voilà quindi se volete sta molto bene vedete voi io non lo so a me piace vi ho dato questa idea e spero vi piaccia comunque i braccialetti sono veramente belli a me piacciono moltissimo spero piaceranno anche a voi va bene al prossimo tutorial